In questo video, quindi, dopo aver capito che cosa significa essere un professionista, voglio andare a smontare un pochino quelli che sono i luoghi comuni. La domanda che ricevo più spesso è sono un ragazzo giovane e voglio diventare un professionista. Qual è il percorso che devo fare? Primo luogo comune. Non c'è un percorso vero e proprio, cioè faccio questo libro, poi studio questo libro, poi faccio quello, poi vado a lezioni da quello, poi vado a cercare quest'altro e quindi divento un professionista. No, perché il primo problema da capire è questo, che arrivato ad un certo livello di tecnica, di conoscenza musicale, eccetera, diciamo, sopra quel gradino, è ovvio che ci sono tanti altri gradini per salire sempre più di livello, ok? E diventare il vini con l'aiuta della situazione. Però è anche vero che arrivato a un certo livello, ok? Nel mondo lavorativo, qualsiasi sia la tua professione, fondamentalmente molta differenza la fa il tuo atteggiamento e non nella tua capacità tecnica, ok? Quindi questo è il primo mito da sfatare. È importante l'atteggiamento e non troppo il percorso, perché ognuno ha il suo percorso, ognuno ha la sua sensibilità e quindi le sue capacità di mettersi in relazione con una determinata situazione, che può essere di studio, lavorativa, eccetera, eccetera. E da lì poi costruisce mano a mano, passo dopo passo, il proprio percorso artistico, tecnico e quindi a un certo punto quello che poi succederà nel futuro, che Dio solo lo sa, però fondamentalmente è un po' la somma di tutto quello che ti è successo prima e di come tu hai affrontato le cose. Quindi non c'è un percorso ben preciso. Ci sono, secondo me, piccole cose da tenere presente, ok? E che devi sempre tenere presente durante il tuo percorso. Quello fa la differenza, sicuramente. Ma non è passaggio A, passaggio B, passaggio C. Non è proprio così. Secondo mi do da sfatare, spesso batteristi che ci sembrano normali, che non sono tecnicamente così bravi, però ricoprono dei ruoli importanti, tipo, che ne so, il batterista di quel grande cantante, di quel grande gruppo, eccetera. Molte volte vedo dei messaggi e mi dicono Ah, e questo però non è così bravo tecnicamente, cioè non fa niente di che. Perché uno così magari lavora con questo grande cantante e quindi guadagna anche bene e invece quell'altro batterista, o io, che tecnicamente... Non io, Rodolfo, io, io, persona ipotetica, che comunque tecnicamente so fare delle cose molto più complicate di quelle, perché io non lavoro e lui, sì? Questo è un altro luogo comune micidiale. E si rifà un pochino a quello che ho detto prima. Cioè, non è che per lavorare con la musica, anche ad alto livello, devi essere il campione del mondo dei paradidola a 400 all'ora e saper fare il rullo con un piede. Non è questo, quella è roba di giocoleria, non ha niente a che vedere con la musica, ok? Probabilmente quella persona che tu vedi in quel ruolo così importante è il risultato di quello che era necessario in quella circostanza artistica, in quella circostanza musicale, eccetera, eccetera, che è stato reputato la persona giusta, ok? Non è sapere essere bravissimo con la tecnica che ti porta a lavorare con i grandi cantanti. La tecnica è uno dei tanti tasselli, però bisogna vedere, e qui ritorno a quello che ho detto poco fa, che atteggiamento hai, come sei e come ti poni di fronte a varie cose, ok? Per esempio, come risolvi i problemi tu relativi al tuo strumento e quindi come riesci in qualche modo ad essere un'ottima catena per risolvere tanti altri problemi, ok? Se così si possono chiamare, per una produzione per dire, per una produzione musicale. Reputare una persona all'altezza o no di lavorare in un progetto semplicemente per un problema di tecnica è completamente sbagliato, quindi questo è il secondo luogo comune da sfatare. Terzo luogo comune, che si rifà un pochino anche ai primi due, quali sono le cose giuste e quali sono le cose sbagliate? Non ci sono né cose giuste né cose sbagliate. È un insieme di cose, quello che devi imparare, quello che devi mettere da parte nel tuo bagaglio culturale e tecnico, che poi ti porterà ad ottenere un determinato risultato, ok? Quindi non c'è la cosa giusta e la cosa sbagliata. Spesso e volentieri sento dire, ah, è sbagliato perdere ore a suonare la canzone, così e così, perché invece è molto giusto fare quest'altro tipo di esercizi, fare i rudimenti a 300 all'ora. No, non è né giusto fare i rudimenti a 300 all'ora tutta la vita, né giusto suonare solo le canzoni, è un insieme di cose. Quindi, tecnicamente, non c'è la cosa giusta e la cosa sbagliata, ognuno ha il suo percorso, come ho detto prima. Altro luogo comune, suono da tantissimi anni ma non mi chiama mai nessuno. Allora, a mio modo di vedere è sbagliato, e l'ho detto anche in altri video in passato, pensare che ho fatto il conservatorio, ho studiato con Gesù, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, e quindi mi devono chiamare. No, non funziona così nella professione. Sei tu che devi mettere in mostra, in qualche modo, le tue competenze, che non vuol dire metterti in mostra e far vedere quanto sei bravo a fare i rulli, ma mettere in mostra, in qualche modo, essere una persona interessante per un obiettivo più grande di mettere in mostra se stessi. Ok? Quindi io posso entrare, la domanda che ti devi fare è, se io entro in questa band, se io entro a lavorare con questo artista, se io lavoro in questa produzione, quali sono le cose che porto, che arricchiscono quello che sto facendo nel contesto, quindi che arricchiscono tutti quelli che lavorano con me in quel momento, che arricchiscono il cantante, che arricchiscono il bassista, che arricchiscono l'impresario, che arricchiscono il tour manager, che arricchiscono il backliner, i fonici, eccetera, eccetera. Questo è, cioè tu sei una persona che in qualche modo, non l'unica persona, ma hai delle caratteristiche che ti portano ad arricchire le persone che lavorano con te, questo è anche molto importante. Quando invece le persone dicono, io sto studiando a cannone, studio, 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 però non mi chiama nessuno e suono da vent'anni. Certo, perché tu non stai facendo niente, fondamentalmente in quei vent'anni, non hai fatto probabilmente niente per renderti interessante a qualcuno come risolutore di problemi, come persona che porta un contributo, che non è tecnico, ritorniamo sempre lì, ma che è organizzativo, gestionale, musicale, artistico, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante. Non basta dire suono da vent'anni, quindi, no? Potresti suonare anche da un giorno, ma avere delle caratteristiche così importanti che ti portano a lavorare con qualcuno, quindi ad essere pagato per portare quell'arricchimento, quell'accrescimento. Altro luogo comune, ragazzi, che ho sentito più volte, come quando si parla di politica, no? Il sistema non mi vuole far lavorare. Il sistema manda avanti sempre gli stessi. Il sistema, questo sistema. Allora, io nella mia... Io non sono nessuno, ok? Io sono un batterista anche scarso, se vogliamo. Cioè, nel senso, rispetto a tantissime persone che girano, veramente... ma ho da imparare a pacchi, ok? Ma no a pacchi. Io ho calcolato, ho fatto una volta un ragionamento su me stesso, e ho calcolato che devo studiare 1800 anni, 1800... dovrei vivere 1800 anni per riuscire ad imparare tutto quello che vorrei imparare. non solo di tecnica, ma proprio in generale, ok? Sotto tantissimi punti di vista, ok? Quindi, io non mi reputo assolutamente nessuno, ma vi garantisco che ci sono delle persone che sono convinte che c'è un sistema, un sistema, questo sistema, che, come vi posso dire, che a loro li blocca. Perché io, che comunque ho, sono diventato così bravo, sono diventato così incredibilmente figo, eccetera, eccetera, io sono bloccato perché i corrotti, che ne so, i mafiosi, quelli che hanno le mani in pasta ovunque, mi bloccano. Io, ve lo garantisco, non è così. Quindi, se vali qualche cosa, ma non vali qualche cosa come tecnica musicale o come persona in quanto tale, ma se sei una persona che è nel giusto angolo, ok? Che vede le cose nel modo giusto, quindi portare un arricchimento al contesto lavorativo dove stai andando a lavorare. Il lavoro, in verità, c'è, e non è vero che ci sono dei sistemi per i quali non c'è il lavoro. Oggi c'è tanta concorrenza, questa è una cosa in dubbia, ma, assolutamente, non c'è, secondo me, il sistema che ti blocca. C'è semplicemente il fatto che tu sei molto incentrato su te stesso e non nel voler portare qualcosa di valore a qualcuno. Questo argomento poi proveremo a sviscelarlo più avanti in un altro video, perché è un argomento che veramente merita tantissima attenzione, ok? Perché il proprio punto di vista è quello che poi ci porta a prendere delle decisioni, che sono a volte anche di lavorare gratis per ottenere un certo tipo di risultato, per far vedere alle persone che siamo in grado di ottenere un certo tipo di risultato e quindi far crescere, farci quotare di più per poi essere anche pagati, perché se non ci pagano poi non mangiamo, ok? Quindi il problema è sempre un problema, poi alla fine, di sopravvivenza. Quindi il sistema, questo luogo comune del sistema che ci tiene obbligati, bloccati, eccetera, eccetera, io credo che nel mondo dell'arte non sia proprio così, perché ci sono degli equilibri che quando un musicista, un batterista entra in un gruppo, lavora con un cantante, lavora con un artista, eccetera, va a smuovere, quindi si smuovono questi equilibri. Se questi equilibri, che sono un po' tecnici, un po' musicali, un po' artistici, un po' gestionali, vengono smossi in positivo, quel musicista rimane a collaborare con quel progetto perché ha portato qualcosa, che non è necessariamente suonare bene, e basta, ci sono anche tante altre cose. Mentre se l'equilibrio che c'era prima viene spostato, ma in maniera negativa, quel musicista non continua a lavorare, non perché non sia bravo a suonare, ma perché il suo apporto, anche umano, spesso e volentieri, non è adatto, non è utile a quell'equilibrio, ok? Quell'equilibrio aveva necessità di un accrescimento in una certa direzione e quindi il batterista che deve entrare, parliamo di batteria, quindi il batterista che deve entrare in quella situazione deve portare un qualcosa per accrescere. Bisogna essere bravi a individuare qual è il tassello da andare a migliorare, che non necessariamente è la tua bravura e basta, tecnica, ma è a volte anche un qualcosa in più, serve qualcosa in più oltre alla tecnica. L'altro luogo comune da smontare è che non c'è il lavoro. Allora, io l'ho detto anche in altri video, non è che non c'è il lavoro, è che il lavoro, se sei un professionista o se vuoi diventare un professionista e quindi sei un libero professionista nel mondo della musica, il lavoro lo crei tu, non c'è il lavoro, cioè finché non lo crei non c'è, quando lo crei c'è, ok? Quindi non è che non c'è il lavoro, il lavoro nel mondo musicale, come in tantissime altre cose, si crea, si genera, quindi dire non c'è il lavoro come se fossero bloccate le assunzioni alle poste italiane, quello vuol dire che non c'è il lavoro, cioè c'è una grande azienda che è satura, ci sono i posti, c'ha 1500 posti di lavoro, tutti occupati e nessuno è in procinto di andare in pensione, lì non c'è il lavoro, ok? Oppure, l'azienda, prima servivano 5000 dipendenti per fare determinate operazioni, tipo Amazon, adesso sono arrivati i robot, e quindi Amazon licenzia le persone perché le mette e mette i robot al posto delle persone, quello vuol dire che non c'è lavoro, ok? Nella libera professione è diverso, il lavoro non è che c'è o non c'è, il lavoro lo crei, come fai a creare il lavoro? Essere una risorsa, quindi una persona che porta un qualcosa che un robot non può portare, essere una persona che si sa relazionare bene con gli altri, che quindi mette dal punto di vista artistico anche le persone nella condizione mentale positiva di lavorare bene insieme, quindi creare quel clima giusto per poter collaborare e creare musica, ok? Questo è importante. Quindi pensare, non c'è lavoro, c'è la crisi, nel mondo della musica è vero che c'è una macro contrazione dei consumi, è vero che è difficile riuscire a generare lavoro, questo sì, ma non c'è lavoro, è proprio una cosa sbagliata secondo me, secondo il mio modestissimo parere da dire, perché il lavoro non è che c'è o non c'è, il lavoro lo crei tu, lo crei tu con le tue competenze, proprio perché sei un libero professionista, se sei un libero professionista o vuoi diventare tale, attraverso le tue competenze riuscirai a capire, non semplicemente ragazzi io so registrare la batteria, faccio il paradiddle benissimo, quindi mi dovete pagare, non funziona così, ma tu riesci ad individuare magari in una band una carenza, spieghi a quella band ragazzi secondo me voi avete un problema, perché questo, questo e questo non funziona, io credo di potervi aiutare a risolverlo, gli fai vedere come fare e a quel punto si genera lavoro e cominci a collaborare con quella band, questo è secondo me un ottimo punto di partenza, per ragionare su questo luogo comune e non c'è lavoro, il lavoro c'è se tu lo crei, se tu non lo crei e vuoi fare il professionista, stai sbagliando, il professionista crea il proprio lavoro, e ovviamente il dipendente gli danno un lavoro, se vuoi fare il professionista, devi pensare che il tuo lavoro lo crei tu, ok? Quindi questo è l'altro punto, diciamo che volevo smitizzare, ok? Nel prossimo video andiamo a vedere invece la chiave di volta di tutto questo discorso, come faccio a diventare un professionista? La prima cosa che devi diventare è una persona professionale, di tutto questo discorso,